Buongiorno, benvenuti allo scampolo di Rovigo. Noi siamo un negozio di tessuti di qualsiasi genere, sia tessuti da abbigliamento che arredo casa e abbigliamento confezionato. Allora, per quanto riguarda i tessuti, sono già 41 anni che ci siamo e invece l'abbigliamento è stato inserito da qualche mese. Allora, adesso vi faccio vedere dei capi di lino che sono stati messi in super sconto perché ormai ci avviciniamo all'autunno, quindi devono arrivare tutte cose nuove e dobbiamo eliminare tutte le cose estive che abbiamo in negozio, quindi abbiamo dei super sconti. Allora, iniziamo con questo completo che è in puro lino e la camicina, come vedete, è a spalla ascesa, la manichina vi arriva sopra al gomito, poi dietro è un po' più lunga, adesso io l'ho messa un po' pizzicata, però vedete, eccola qua. I pantaloni invece, che sono sempre in puro lino, sono dei pantaloni molto particolari perché hanno dei pannelli, allora il pantalone è a palazzo, è un pantalone che va giù molto morbido e hanno dei pannelli che sono inseriti in cucitura e poi sormontano un po' il pantalone sul davanti e si chiudono con questo fiocchetto. È un completo molto bello, molto pratico, vedete, e adesso, anche se lo comperate adesso, ma ve lo ritrovate dopo per la prossima stagione perché il fucsia, come colore estivo, è bellissimo, vedete, e poi il lino è freschissimo da portare per tutta l'estate. Poi ho abbinato, per fare un po' di stacco dal fucsia, ho abbinato questa bella collana in cauccio, chiara, anche queste collane costano molto poco e sono molto d'effetto. Ecco qua il nostro completino super scontato. Camicia in puro lino, guardate quanto è bella, verde salvia con il cuo a chiaro, manica lunga, adesso io l'ho arrotolata, però ha il polsino, vedete. Poi davanti, allora il collo ha camicia, il collo è semplicissimo, davanti è un po' più corta rispetto al dietro, morbidissima perché vedete quanto veste, dietro ha queste due punte tipo smoking, è molto particolare anche come modello, bellissima, freschissima anche questa perché appunto è un purolino. Poi sotto ho abbinato questo bellissimo topino in maglina di cotone, è una maglia a costine elasticizzata, quindi si adatta, e questo stupendo fiore, sempre in tessuto, tutto a taglio vivo, e fa tutti questi petali che fanno un po' di volume. Il pantalone è un pantalone in maglina di viscosa, quindi come vedete è morbidissimo, e anche questo veste le diverse taglie, perché dopo lui segue i lineamenti della persona, lui dopo, come vedete, morbido, 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 e l'elastico cede tantissimo, quindi è una taglia unica, va bene a tutte. Anche questo è un altro bellissimo completo, che è stato messo in super super sconto. E di questo completo, che ne dite? Guardate che meraviglia, sempre purolino, la giacca è una giacca camicia, praticissima da portare, con questo taglio particolare, guardate la manica, ha la manica che si chiude sempre tipo a tulipano, ma è fantastico, collo camicia, semplice, un bottoncione, e dietro, eccola qua, anche questa, taglia unica, quindi veste molto. Il pantalone è sempre un pantalone in purolino, anche questo veste le diverse taglie, taglia unica anche il pantalone, e sotto va giù, è particolare perché va giù, e si chiude con questo nodino. Come vedete, morbidissimo, freschissimo. Poi sotto ho messo un gilet, ecco questo fa parte delle nuove collezioni, bellissimo, guardate che lavorazione che ha, tutte queste frange, e poi è tutto ricamato con perline. Guardate se non è bello, fantastico. Adesso mi tolgo la giacca, così lo vedete meglio. Guardate. È meraviglioso. Particolarissimo. Adesso io qua l'ho abbinato al chiaro, però essendo tinta neutra, dopo voi lo potete mettere con quello che volete, col nero, lo mettete col beige, col grigio, col bianco, oppure anche con un semplice jeans, perché il gilet da solo dice tutto. È meraviglioso. particolarissimo, bellissimo, e se volete c'è anche in nero, lo stesso modello. Guardate questo vestito, se non è una meraviglia. Guardate. Fantastico. Fa sempre parte delle nuove collezioni, proprio appena, appena arrivato. Allora, prima di tutto abbiamo le nostre belle tasche, Allora, la parte sopra è un tulle ricamato, perché ci sono tutte queste paillettine qua, che fanno motivo. Guardate. Paillette. Ricamo, rifilato con le diverse sfumature di colore. E in più, la base del tulle è con stampa animalier. Quindi guardate quante lavorazioni ha questo corpino. La parte sotto è in taftà. Tutto a balze e si alternano i colori, che riprendono comunque i colori che ci sono sul corpino. Guardate. Meraviglioso. Però, anche se è appena arrivato, costa pochissimo. Per i prezzi, contattateci su YouTube, su Facebook, su WhatsApp, come volete. voi guardate, ci sono i numeri sotto, e ci contattate, oppure chiamateci direttamente in negozio, e noi vi diciamo prezzi, vi diciamo tutto quello che volete sapere. Bellissimo. Se volete non portarlo così, tutto morbido, allora, possiamo mettere un bel cinturone in vita, così. Adesso io lo metto nero, però dopo voi potete scegliere uno dei qualsiasi colori che c'è sulla donna. Eccolo qua. Anche portato con la cintura, direi che è meraviglioso. Bellissimo. È un pezzo unico, quindi mi raccomando, contattateci il prima possibile. Vi diciamo prezzo, vi diciamo misure, tutto quanto. Beh, la taglia ve la posso già dire, perché veste una 40-42. Meraviglioso. Contattateci. Grazie. Per le vostre cerimonie di settembre, guardate che meraviglia. Allora, la camicia è una camicia a poncio, molto ampia, morbidissima, in seta e discosa. Stupenda, molto raffinata, anche come fantasia. Leggerissima, perché la seta, guardate, una nuvola, meravigliosa, spolazzante, poi ha il polsino in maglina e lo stesso polsino di maglina qua è stato messo sotto per fare da sottovestina, perché questa seta è un wall di seta, quindi è trasparentissima. E sotto, allora, abbiamo la nostra sottovestina in maglina di viscosa, quindi tutta fibra naturale, seta viscosa e viscosa la foderina che è sotto. Vedete se non è bello. Poi qua io ho messo una delle nostre spille a fiore che abbiamo, che queste le abbiamo in diverse misure e anche di tutti i colori. Come vedete, la rende un po' più particolare. Poi sotto, c'è questo pantalone qua, che è una gonna, pantalone, anche questa è una taglia unica, dietro c'è l'elastico, poi lei si adatta. Guardate che bella che è. Morbidissima, bella svolazzante, il tessuto è un tessuto che non si stropiccia, praticissimo e anche questo completo viene a costare pochissimo. Contattateci, chi vi diciamo i prezzi, senza nessun problema. E anche questo appunto è un capo unico, quindi se lo volete chiamateci che ve lo teniamo da parte e vi facciamo anche spedizioni in tutta Italia. Sempre della nuova collezione, altro bellissimo completo. Allora, il gilet è in gabardi, in misto viscosa, poi fa questa, il gessato è fatto con un spalmato argentato, adesso non so se si vede bene il riflesso che fa, è proprio il classico gilet a uomo, semplicissimo, guardate qui dietro. Il pantalone è un pantalone con il fascione abbastanza alto, pens davanti per dare la morbidezza, abbiamo le nostre tasche e sotto la gamba va giù abbastanza diritta e sotto c'è un bel risvoltone. Anche questo è un tessuto comunque praticissimo, non si stropiccia, bello, d'effetto, particolarissimo. Sotto abbinato una camicia in cotone con la manica che fa tutti questi volant, sono tutti volant sormontati l'uno all'altro, guardate, guardate se non è bella, se non è particolare. Il collo è un collo a fascia, semplicissimo, dopo io qua l'ho portata anodata, però la camicia arriva più o meno a questo punto qua ed è una taglia M, tutto il completo è una taglia M. Sotto questa stupenda collana con tutte queste boule sempre argentate che riprendono l'argento di tutto il completo e dà anche quel tocco un po' di stacco dal nero. Bellissimo, guardate, bellissimo. anche questo da serata direi che è meraviglioso. Guardate che camicia, meravigliosa, guardate se non è stupenda. Allora, questa potete portarla sia come camicia, così come l'ho indossata io, oppure chiudendola tutta, dopo c'è anche in omaggio sulla camicia c'è una cinturina, la potete portare anche tipo chemisier, come vestitino. A me sinceramente piaceva di più come camicia. Allora, guardate com'è. Allora, è il disegno animalier, il collo è tutto con degli svaroschi, quindi pienissimo di svaroschi, svaroschi qua, svaroschi sul taschino, guardate, c'è anche la tasca, per la tasca vera, e poi la base, tutti svaroschini in tutta la lunghezza della camicia. E poi, guardate i bottoni, bottoni gioiello, sempre con svaroschi. Adesso non è fantastica questa camicia. Bellissima, bellissima, da occasione, da serata, io direi che è una favola. La manica, come vedete, è una manica lunga, con il polsino, e anche sul polsino, c'è il bottoncino gioiello. Vedete, polsino normale, proprio a camicia. Poi, ho sotto, qua, ho messo, una, canottina, canottina, di quelle con le spalline, con tutti i svaroschi, quindi lo svaroschi, qua, riprende tutti i svaroschini, che ci sono, sulla camicia, e sotto, un semplicissimo, pantalone nero, taglia M, in punto Milano. Quindi, è un pantalone, elasticizzato, bellissimo. Qua, ho messo un pantalone, così, abbastanza diritto di linea, perché la camicia, è già, abbastanza importante, di suo, quindi il pantalone, l'ho messo abbastanza lineare. Stupendo, questo completo. Guardate. Anche questo, è un pezzo unico, quindi, se vi interessa, contattateci. Grazie. Bellissimo, completo, con il disegno, animalier. Tutta viscosa, quindi, morbidissimo, freschissimo, guardate quanto è bello. Abbiamo i due tipi di disegno animalier, c'è il maculato e il zebrato. Guardate quanto è bello. Collo a camicia, semplicissimo, ha un bellissimo polsone, sempre che riprende il zebrato, dell'abbassamento della camicia. La manica molto ampia, e comunque anche la camicia, come vedete, veste molto. Bella ampia, taschina. Poi, il pantalone, sempre un pantalone in pura viscosa, sempre con i due disegni animalier, il maculato e il zebrato. Guardate che bello, con l'abbassamento sotto. Taglia unica, quindi veste, veste molto. Poi in vita c'è un laccetto, che dopo voi vi regolate, e c'è anche l'elastico. Vedete, quanto veste. sotto ho messo una canottina, in chiffon, è tutta doppiata, così non è trasparente, e qua l'ho messa in testa di moro. Guardate, bellissimo. Di queste canottine qua, comunque abbiamo il bianco, il beige, il testa di moro che sto indossando io, e il nero. Quindi se vi interessa, contattateci, il numero è quello che vedete sotto. Grazie. Guardate, fa sempre parte, quello che sto indossando, degli ultimi arrivi. Allora, questo giubbettino, meraviglioso. Allora, il fondo è una maglina, lavorata tipo a retina. Poi ci sono tutte queste frangettine qua, questi petalini di organza. Vedete quanto è bella la lavorazione? Allora, il modello è un taglio a bomberino, quindi il taglio è abbastanza semplice, c'è l'elasticino al fondo manica, la nostra bella cernierina. Meraviglioso, è particolarissimo questo giubbettino. C'è questo colore qua, e poi c'è anche il nero, per chi dovesse interessare, abbiamo i due colori. Dopo sotto ho messo, un semplicissimo toppettino nero, con spallina sottile, proprio semplice, semplice, e il pantalone, che riprende il nero del toppettino, e il beige del giubbetto. Guardate questa fantasia, se non è bella, questa fantasia geometrica, particolarissima. Il pantalone è sempre un pantalone, come vedete, molto ampio, a palazzo. Il tessuto è un tessuto praticissimo, che non si stropiccia, e dopo qua c'è anche l'elastico in vita, e quindi, vedete, si adatta. Anche questo è un completo bellissimo, non spendendo molto. poi la collana sotto in cauciù, che riprende anche questa, i due colori di tutto l'insieme. Meraviglioso. Contattateci, che vi diciamo prezzi, e tutto quello che volete sapere. Guardate che completo, fantastico. Da serata, fate un figurone. Allora, la maglia è una maglina in jersey, è un jersey peso, un medio peso, diciamo. La manica, come vedete, è lunga, è elasticizzato, taglia unica, quindi dopo lui, si adatta. Guardate che particolarità che ha. Ha queste balze, tutte lavorate a plissè. Guardate se non è bello. C'è sul davanti, poi scende un po' sulle maniche e dietro riprende lo stesso motivo che c'è sul davanti. Ditemi se non è meraviglioso. Poi, il pantalone è un pantalone sempre in jersey, lavorato a crepe, molto elasticizzato, molto morbido, con le pensine qua, per dare ancora più morbidezza. E poi, in dita c'è questo fascione qua, che è elasticizzato, vedete, quindi questo dopo si adatta, e questa bellissima cintura che dà quello stacco giusto dal nero. Che ne dite? Possiamo andare a una serata, facciamo il nostro bel figurone. per chi dovesse interessare, lo stesso completo c'è anche in bianco. Guardate che giubbetto meraviglioso. Adesso la temperatura si è un po' abbassata, quindi mattino e sera, se continua così, stiamo bene con qualcosa addosso. Allora, questo giubbettino è in tessuto impermeabile. Guardate che taglio particolare che ha. Allora, il collo, semplicissimo, abbiamo la nostra bella cinturina in vita, le nostre tasche, però la manica è la particolarità di questo giubbetto. Guardate, guardate se non è meraviglioso. Bellissimo. È una taglia unica, anche questo. Adesso così, io l'ho messo con la cintura chiusa, però, per chi non volesse la cintura, lo possiamo benissimo aprire. La cintura viene tolta e lo portate solo così, tutto diritto, con il nostro bottoncino. Meraviglioso, particolarissimo e di questo ci sono tutti i colori. Altro giubbetto, molto particolare, sempre della collezione nuova. Guardate quanto è bello. Abbiamo le nostre belle tascone, abbiamo il nostro bel cappuccio che all'occorrenza lo tiriamo su. Poi la particolarità sono i due colori del tessuto. Il tessuto è sempre un tessuto impermeabile e qua abbiamo il contrasto dei due colori. Il nero abbinato al beige oppure c'è tutto beige con il cappuccio nero che fa contrasto perché i colori che hanno fatto sono questi, nero e beige. La manica è una manica molto ampia con l'elastico al polsino. Poi c'è questo lacetto qua che fa un po' di motivo parte per parte guardate bellissimo bellissimo particolarissimo vi faccio vedere anche aperto guardate che giubetto stupendo spendendo pochissimo e fra poco ci serve guardate che giacchina meravigliosa il tessuto è un tessuto molto pratico che non si tropizza con la lavorazione a gabbardi guardate collo sportivo e poi la particolarità sono queste scritte sulla manica poi si riprende sul collo la linea è una linea abbastanza diritta è una taglia unica e sul nero direi che è perfetta oppure se non volete portarla sul nero mettete con qualcosa di beige o se no è una giacchina anche da portare tranquillamente anche sopra un jeans stupenda bene per questa mattina abbiamo finito io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima vi auguro una buonissima giornata e ci vediamo Grazie a tutti